Buongiorno a tutti, io sono Alessia Rodigliero, ex studentessa dell'Università degli Studi di Verona. Mi sono laureata dopo un percorso di 5 anni, prima nella triennale in beni culturali e successivamente nella magistrale in arte. Ad oggi sono una collaboratrice di Palazzo Maffei, Casa Museo, l'ambiente che vedete intorno a me. Ho potuto iniziare questa grande collaborazione proprio a partire dai miei studi e dall'università, ovvero con quella collaborazione iniziale portata avanti in triennale che mi ha permesso di entrare in questo spazio e che ad oggi è diventato il mio lavoro a tutti gli effetti. La mia passione per l'arte è nata fin da piccola, dalla mia voglia di visitare e scoprire posti nuovi e che con il tempo si è sviluppata indirizzandosi principalmente all'arte contemporanea, argomenti a cui ho dedicato le mie tesi sia di laurea triennale che magistrale. Ovviamente l'arte è un mondo a sé ed è difficile, però tutto il duro lavoro che c'è alle spalle, gli anni di studio portano sempre i suoi frutti e per me lavorare a Palazzo Maffei è una delle più grandi dimostrazioni.